Io sono Angelita, Claudia e Rosiglia, il prodotto preferito della WeMakeup. Vi presento il mio prodotto preferito di WeMakeup. Ciao, sono Claudia e questo è il mio prodotto preferito di WeMakeup, il Well Lip Plumper. Si può utilizzare sia per avere un effetto istantaneo prima di indossare il rossetto, sia come trattamento, quindi giornalmente. Rende le labbra molto più rimpolpate e idratate. Vi lascio all'applicazione. Per completare questo look ho utilizzato anche Very, che è un mascara allungante e le due matite Only nelle colorazioni 2 e 5.